Questo è uno strappo del tendine d'Achille, è il famoso tendine del muscolo tricipite surale e qui si strappa completamente in due parti separate. Si verifica principalmente nelle attività sportive, il trattamento chirurgico prevede la sutura delle parti strappate e il percorso di fisioterapia dura almeno tre mesi prima di tornare allo sport. Buon recupero!